Buongiorno, siamo in compagnia del professor Franceschi, professore buongiorno, è un piacere di averla con noi e siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per parlare di emergenze, emergenze estive. La gestione di un pronto soccorso in estate è complessa perché ci sono molte problematiche che possono insorgere. Professore, una giornata al pronto soccorso d'estate, quali sono le emergenze che capitano più frequentemente? Domanda molto interessante perché noi conosciamo bene le stagionalità delle malattie, c'è il periodo invernale in cui ci sono le influenze, le polmoniti e poi c'è il periodo estivo in cui subentrano altri tipi di patologie. Patologie che noi possiamo dire innanzitutto un forte incremento di tutte le patologie traumatiche, perché in estate si tende ad uscire di più, quindi a viaggiare di più. Molti riprendono magari la moto e fanno delle passeggiate e questo purtroppo, purtroppo noi lo sappiamo, porta delle conseguenze, c'è un incremento del numero degli incidenti e quindi è il periodo in cui vediamo effettivamente molti più traumi rispetto magari al periodo invernale. Dopodiché abbiamo molte patologie legate all'anziano, cioè l'anziano che purtroppo perdendo in maniera fisiologica ma anche patologica lo stimolo della sete tende a disidratarsi e quindi se noi vediamo una giornata ad esempio come quella di oggi abbiamo almeno 7-8 pazienti con proprio una disidratazione e quindi un'insufficienza renale acuta, spesso su insufficienza renale cronica, quindi una riacutizzazione, proprio dovuta al difetto appunto di liquidi, quindi l'eccessiva traspirazione, non si beve abbastanza, l'anziano tende a coprirsi troppo, non ha proprio la percezione del calore, quindi sono cose che succedono. E l'altra cosa caratteristica sono anche l'incremento nei periodi appunto di caldo freddo, la mattina, la notte è più fresco, lì giorno è più caldo, delle gastroenteriti. Altro fenomeno che tende a disidratare le persone, quindi che vada all'età pediatrica, soprattutto all'età proprio geriatrica, in maniera anche abbastanza importante, quindi si arriva in pronto soccorso spesso con un forte livello di disidratazione. Patologie infettive ne vediamo comunque, di febbri, abbiamo avuto anche un numero insomma abbastanza consistente di pericarditi, pazienti quindi sono complicanze di malattie infettive che possono coinvolgere appunto il pericardio. Ecco queste sono le patologie. Poi ovviamente ci sono anche la riacutizzazione di patologie respiratorie, scompenso cardiaco, un'altra caratteristica, stiamo vedendo parecchi pazienti, soprattutto anziani, con queste patologie. Una problematica legata al caldo può essere anche quella di sbalzi pressori, abbassamenti di pressione, ma anche persone che magari pensano di sospendere quella che è la terapia per l'ipertensione perché vedono comunque che i valori stanno scendendo un po'. Come comportarsi? Allora in questo caso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente misurare i valori pressori e ridurre magari eventualmente il dosaggio dei farmaci solo se questi valori pressori sono effettivamente troppo bassi. Cioè non dobbiamo dare per scontato che devo sospendere la terapia o ridurla semplicemente perché fa caldo. Devo monitorare i valori pressori. Questo è importante perché alcuni farmaci antipertensivi ci mettono giorni poi per riprodurre il loro effetto e durante quel periodo spesso questi pazienti si presentano in pronto soccorso con delle crisi ipertensive. Invece nel momento in cui una persona che abbia una pressione normale abbia però un episodio di ipotensione e quindi comunque arrivi da voi con sintomi appunto legati a un abbassamento pressorio. Come vi comportate? Allora quello che noi facciamo innanzitutto cerchiamo di farli risalire i valori pressori. Quello basta idratare diciamo appunto con della fisiologica il paziente. Spesso magari consigliamo al paziente anche di bere in quel caso, aumentare l'introito proprio di liquidi perché a volte magari il caldo uno poi non beve, beve meno, ovviamente i valori scendono. Quindi noi oltre a riequilibrare i suoi valori pressori daremo poi dei consigli su come proseguire con la terapia. Parlando di estate non si può non parlare di sole, amico e nemico, colpo di calore, colpo di sole, esposizioni sbagliate, tutto il capitolo di quelle che possono essere piccole e grandi emergenze legate all'esposizione solare. Assolutamente. Allora il sole va bene ma quando diventa troppo forte, quindi nelle ore centrali della giornata, può creare effettivamente dei problemi a chi? Soprattutto agli anziani e bambini. Magari l'adulto sano è quello che resiste meglio, ma in ogni caso l'esposizione al sole anche a livello appunto dermatologico può dare dei problemi. Noi ne vediamo di pazienti che tornano magari dal mare la domenica, la sera e vengono in pronto soccorso con degli eritemi abbastanza importanti e quindi a volte anche con problemi alla vista perché magari stanno troppo tempo proprio alla luce del sole, giocano magari a racchettoni, a pallone e questo ovviamente poi gli può creare dei problemi. In questo caso dovremmo semplicemente evitare l'esposizione prolungata proprio nelle ore centrali della giornata. Ecco, agli anziani noi diciamo sempre cercate di uscire di più la mattina o la sera nelle ore più fresche, magari evitando le ore più calde. Anche perché spesso poi quello che può succedere è che uno tende a disidratarsi, tendono a scendere i valori pressori, magari l'ipotensione ortostatica che è tipico di molti pazienti anziani ma anche dei pazienti diabetici ad esempio, poi rischia di far insorgere un'altra patologia che noi stiamo vedendo spesso che è la sincope, appunto il cosiddetto svenimento, la perdita dei sensi. Magari il paziente, il soggetto è in una panchina seduto al caldo dopo essere stato esposto parecchio tempo, si alza di colpo e ha questa perdita dei sensi. Questo spesso è dovuto appunto all'effetto anche del caldo e poi bisogna escludere invece poi tutte le patologie sottostanti, quindi ovviamente questo può far riemergere delle problematiche cardiovascolari, dell'aritmie su questi pazienti, quindi il sole va bene ma insomma con moderazione. Un ausilio tecnologico che amiamo tutti molto che è l'aria condizionata, qualche problema ogni tanto lo può portare. Si sentono episodi di mal di gola che ci aspetteremo a gennaio, di contratture muscolari o quant'altro legato all'aria condizionata, che questo immagino che vi capitino delle persone che ne hanno abusato o si sono trovati magari anche nello sbalzo di temperatura, perché anche quello a volte veniamo magari dall'esterno in ambienti molto freddi, anche quello può essere un problema. Riguardo all'aria condizionata, diciamo, la popolazione si divide in due, gli amanti dell'aria condizionata che magari vivono in una sorta di cella frigorifera senza nessun problema e poi i detrattori sono quelli diciamo che non la sopportano. Io dico questo, l'aria condizionata è uno strumento estremamente utile perché di fatto ci protegge dal caldo estremo. L'accortezza che bisogna tenere è di non superare diciamo i 4 massimo 5 gradi di differenza tra l'interno con l'aria condizionata e l'esterno. È chiaro che se noi fuori abbiamo 35 gradi e io metto un'aria condizionata, l'imposta a 21 gradi, questo mi potrebbe potenzialmente causare dei problemi. Se io invece vado a mitigare la differenza diciamo di 5 gradi, io ho un beneficio perché poi l'aria condizionata non solo rinfresca l'aria ma soprattutto toglie l'umidità perché la nostra percezione di disagio con il calore intenso non è solo la temperatura ma soprattutto l'umidità. È quello che ci dà questo senso perché? Perché l'umidità che si attacca alla cute non permette più la traspirazione e quindi la sincope caratteristica dell'anziano che va magari in chiesa a mezzogiorno col caldo è proprio dovuta a questo. Magari tendono a vestirsi troppo, non c'è più traspirazione ma è proprio un effetto legato più all'umidità proprio che alla temperatura massima. Parliamo di alimentazione, in estate cambia molto, la problematica però legata magari a un'alimentazione sbagliata, anche bibite molto fredde, la congestione, il famoso bagno, aspettare le tre ore sia in mare che in piscina. Vi capitano persone che magari hanno problemi legati a un'alimentazione non adeguata alla stagione estiva? Sì, allora io potrei fare un punto particolare sull'alcol in questo caso, oltre ovviamente a rimodulare la propria alimentazione per cui noi d'inverno tendiamo a mangiare più pesante, cioè vuol dire più grassi, proprio perché producono più calore e quindi è un meccanismo un pochettino per scaldarci. Ed estate quello che succede è che ovviamente dobbiamo mangiare cibi più leggeri, magari proprio nei periodi più caldi anche dei piatti freddi, ci stanno bel gelato, ad esempio che di fatto le bibite ghiacciate, certo la bibita fresca non ghiacciatissima, questo è una cosa, ma soprattutto l'alcol può creare problemi, perché l'alcol intanto è un prodotto istantaneo di calore, per cui nel momento in cui fa molto caldo io vado ad aggiungere calore al caldo che già c'è. E l'altra cosa è che può avere un effetto inizialmente vasodilatatore, quindi può favorire gli episodi sincopali. Il discorso della congestione è un discorso molto discusso, per cui c'è qualche autore, ricercatore che ritiene che la congestione di fatto non esista. Allora che cosa può succedere però? Succede che lo sbalzo di temperatura immediato, magari io ho mangiato, ho fatto un pasto copioso, ho bevuto anche degli alcolici, vado in acqua, l'acqua è fredda, quello faccia partire uno stimolo da parte del sistema nervoso vegetativo che può scatenare delle ritmie cardiache, questa è una delle teorie diciamo più accreditate. E quindi le famose complicanze o anche le morti che si vedono nelle spiagge italiane possono essere anche dovute a questo, quindi sicuramente l'alimentazione va curata ed ecco, l'assunzione di alcolici magari la sera, quando è più fresco, quando il clima è più favorevole di giorno, possono effettivamente creare problemi. Concludiamo anche con un aspetto sociale, diciamo così, dell'estate. Molto spesso le città un po' si svuotano, oggi molto meno e per periodi più brevi, però chi magari vive un disagio psichico può avere qualche problema in più anche nel sentire questa solitudine. Come valutate gli accessi in pronto soccorso estivi rispetto a problematiche semine? Allora, diciamo, puntualizziamo subito che l'estate, la primavera estate, è il periodo dell'anno, la stagione in cui si manifestano più disturbi di tipo psichiatrico in pronto soccorso. Se noi andiamo a vedere anche la percentuale di suicidi, aumenta proprio in questo periodo. Perché? Per tutti questi problemi che abbiamo detto, innanzitutto c'è l'effetto del cortisolo. Il cortisolo è l'analogo del cortisone, un ormone, diciamo, euforizzante che però in un soggetto che ha un'instabilità emotiva o psichica gioca a sfavore, non a favore e quindi è proprio l'effetto. Poi l'estate crea confusione, tutti che viaggiano, tutti che stanno in strada, magari chi ha una problematica di tipo psichiatrico tende a destabilizzarsi e questo è il primo punto. Poi c'è anche un aspetto sociale, cioè il fatto che le persone sole d'estate restano ancora più sole, perché magari il vicino di casa, la persona che poteva dare un supporto. E qui entriamo nel tema del ruolo sociale del pronto soccorso. Spesso questi pazienti vengono in pronto soccorso non perché hanno una problematica reale magari, ma perché vogliono un supporto proprio anche comunicativo, vogliono parlare con qualcuno e questo ci deve far riflettere sul tipo di società che noi stessi poi abbiamo creato con tutti i problemi che poi ne conseguono. Sì, un'attenzione in più a quelli che possono essere dei bisogni magari non espressi, non manifesti, ma che comunque esistono. Assolutamente. E qui ci sono tantissime associazioni che fanno veramente del gran bene a queste persone perché le colgono appunto questi aspetti di semplicemente volontà di comunicare, di parlare con qualcuno, di avere qualcuno con cui confrontarsi, magari qualcuno che gli possa dare un piccolo aiuto e questo credo che sia una cosa eccezionale. Professore, ringraziamo moltissimo per i suoi consigli, per goderci l'estate serenamente, in sicurezza ed evitare quei piccoli errori che possono però portare poi a conseguenze che ci rovinano un po' magari le vacanze. Certamente. Grazie a voi. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie.